Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Oggi vi portiamo le ultime anticipazioni di Endless Love del 18 maggio. In questo episodio, Zeynep finge di volersi togliere la vita per ingannare Ozan e vendicarsi di Emir. Kemal, intanto, affronta una guerra senza esclusione di colpi contro Emir, ma scopre che suo fratello Tariq è in prima linea a supporto del suo rivale. Non perdetevi nemmeno un dettaglio di questa appassionante trama. Se vi piacciono i nostri video, ricordate di mettere un like, commentare e iscrivervi al canale. Attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità e anticipazioni delle vostre serie preferite. Iniziamo! Kemal e Nihan ascoltano una registrazione tra Karen ed Emir, ma Nihan non riesce a trovare nulla di utile. Kemal, invece, nota dei rumori di stadio in sottofondo e propone di cercare in tutti gli hotel vicini agli stadi. Nihan concorda, osservando che suo marito frequenta sempre gli stessi posti. Nel frattempo, Zeynep e Ozan fanno colazione insieme. Ozan ringrazia Zeynep per aver accettato il suo invito, ma lei sembra distante. Zeynep gli fa credere che il loro futuro insieme è incerto a causa delle loro famiglie, non perché lei non lo desideri. Poi gli consegna una cornice vuota come regalo, dicendo che ora non ha senso, ma presto verrà riempita. Ozan, non capendo, dice che la riempiranno insieme. Successivamente, Kemal e Nihan raggiungono un hotel e chiedono informazioni sull'eventuale soggiorno di Emir di cinque anni prima. L'albergatore afferma che non può fornire informazioni private, anche se Nihan è la moglie di Emir. Allora, Nihan mette in scena un dramma. Scoppia a piangere, abbraccia Kemal e dice che non rivedrà mai più suo figlio. Dando delle pacche sulla spalla a Kemal, gli fa capire di stare al gioco. Kemal, sebbene perplesso, conferma che Nihan è una madre disperata e che non si tratta di semplice gelosia. Mosso da compassione, l'albergatore informa che cinque anni prima Emir Cozguoglu era lì con una certa Karen Worley. Usciti dall'hotel, Nihan cerca Karen sui social, ma non la trova. Kemal, scettico, suggerisce di usare metodi più tradizionali. Si dirigono quindi verso il porto, dove incontrano un amico del signor Hakki, un ambasciatore in pensione, a cui chiedono aiuto per trovare Karen. Nel frattempo, Emir sta cercando di rintracciare Karen, ma le informazioni che riceve non sono sufficienti. A casa, Ozan guarda felice la cornice che Zeynep gli ha dato. Poi riceve un messaggio da lei con una sua foto in cui scrive che, purtroppo, non possono stare insieme in questa vita. Gli chiede anche di mettere la foto nella cornice per ricordare per sempre il suo ultimo sguardo. Ozan, ricordando le parole di Zeynep sulla cornice vuota da riempire, si precipita nel luogo della foto, temendo che lei possa togliersi la vita. Zeynep, infatti, si trova su un dirupo con l'intenzione di spaventare Ozan, certa che lui andrà da lei. Nel frattempo, Niyan e Kemal sono seduti su una panchina quando l'ambasciatore chiama Kemal, e lo informa che Karen si è sposata tre anni fa, ed è tornata in Turchia con il cognome del marito, fornendogli il suo nuovo indirizzo. Zeynep cammina avanti e indietro sul dirupo che si affaccia sul mare. Non appena vede Ozan, che la cerca con lo sguardo, si avvicina ancora di più al bordo, fingendo di volersi gettare giù. Ozan corre verso di lei. Zeynep finge di mandarlo via dicendo che non ha altra scelta, ma continua ad avvicinarsi al bordo. Ozan la afferra per un braccio e l'abbraccia, dicendo che non permetterà a nessuno di separarli. Lei, soddisfatta, afferma che non possono stare insieme perché le loro famiglie non vogliono, e che, se volessero sposarsi, dovrebbero comunque rinunciare l'uno all'altra. Ma Ozan, determinato, la interrompe dicendo che scapperanno via e si sposeranno in segreto. Le prende le mani e le chiede di stare con lui per sempre, promettendole che la renderà felice. Zeynep accetta abbracciandolo, ma il suo sguardo tradisce la sua vera insoddisfazione. Più tardi, Kemal e Nian bussano alla casa di Karen, ma nessuno risponde. Una vicina li informa che Karen si è trasferita con suo marito in un'altra località, dove gestiscono un maneggio di cavalli. Nel frattempo, anche Emir scopre l'indirizzo di Karen e si precipita per andare da lei. Dopo un lungo viaggio, Kemal e Nian arrivano alla casa di Karen. Bussano e poco dopo lei va ad aprire. Appena la vedono, le chiedono di parlare per due minuti. Nian si presenta come la moglie di Emir Kotskoglu. Appena Karen sente il cognome Kotskoglu, cambia espressione e si chiude in casa, cacciandoli via. Nel frattempo, Emir arriva alla vecchia casa di Karen. Suona con insistenza il campanello e si arrabbia quando un uomo gli dice che l'abitazione è vuota da mesi. La vicina di casa, che poco prima ha parlato con Nian e Kemal, si affaccia alla porta, ma vedendo la prepotenza di Emir, si spaventa e si chiude dentro. Così Kotskoglu, arrabbiato, se ne va e chiama qualcuno. Mentre Kemal e Nian stanno per andarsene, il marito di Karen apre la porta e chiede cosa vogliano da sua moglie. Kemal risponde che devono parlarle e, alzando la voce per farsi sentire, minaccia di tornare con la polizia. Poco dopo, Karen esce e accetta di parlare con loro per due minuti. Li fa entrare in casa e, una volta confermato che possono parlare davanti a suo marito, Nian le chiede cosa ricorda della notte di cinque anni fa nella casa di campagna di Emir Kotskoglu. Contrariamente alle loro aspettative e speranze, Karen conferma che quella notte Ozan ha ucciso la sua amica Linda e che Emir le ha dato dei soldi per mantenere il silenzio. Guardando Nian negli occhi, Karen dice che suo fratello è un assassino, poi li manda via. Nian non vuole crederci e anche Kemal non si fida delle parole di Karen. Karen rifiuta il suo biglietto da visita e, scossa, aggiunge che non ha più niente da dire. Quando escono da casa, Kemal rassicura Nian dicendo che Karen potrebbe non aver detto tutto perché c'era suo marito. Poco dopo, il marito di Karen le chiede se c'è qualcosa che deve sapere riguardo a quella notte di cinque anni fa, ma lei nega. Nian sembra aver perso le speranze. Ma Kemal le dice che troveranno il modo di parlare da soli con Karen, quindi si rimettono in macchina e vanno via. Nel frattempo, Zeynep e Ozan sono in un bar. Ozan sta progettando il loro matrimonio segreto e le chiede se davvero vuole sposarlo. Zeynep, fingendo di essere indecisa, ripensa a tutte le parole di Emir e al suo inganno per ferire Kemal e afferma di sì, che non desidera altro che sposarlo. Intanto, Emir riceve da qualcuno l'indirizzo di casa di Karen e si precipita ad andare da lei. Ozan riaccompagna Zeynep a casa e le chiede ancora una volta se è sicura di volerlo sposare. Lei risponde di sì, ma è chiaro che il suo è solo un piano per vendicarsi di Emir. Intanto, Salih, in lontananza, li vede e promette che presto Zeynep pagherà per tutte le sue bugie. Più tardi, la sera, Emir si presenta a casa di Karen. Sferra un pugno al marito della donna e irrompe nell'abitazione senza dare spiegazioni. Si avvicina a Karen e la ferra per il collo, intimandole di mantenere il loro segreto, altrimenti la ucciderà. Le chiede se ha parlato con qualcuno, ma lei risponde di no, che non l'ha mai fatto. Terrorizzata, Karen promette che lascerà di nuovo la Turchia, ma Emir le dice che non c'è bisogno, perché la troverà comunque. La stessa sera, Kemal chiama Zeynep e gli fornisce l'indirizzo del maneggio del marito di Karen. Gli dice che il giorno successivo dovrà fare da Esca, fingendo di voler acquistare un cavallo per permettergli di parlare da solo con Karen. Nel frattempo, Emir affida il suo primo compito a Tariq, convincere i contadini a ritirare la loro denuncia. Tariq è inizialmente titubante, ma finge di non essere preoccupato. Una volta uscito dall'ufficio, Emir chiede a Tufan di assicurarsi che Tariq usi la pistola che gli hanno dato per far valere la sua autorità e in questo modo incatenarlo a loro. Uscendo dall'ufficio, Tariq incontra Banu, che lo invita a casa sua. Lui rifiuta l'invito dicendo di avere del lavoro da fare, ma accetta di cenare insieme la sera seguente. Poco dopo, Tufan chiama Tariq prima che lasci l'azienda e gli ricorda che Emir si fida molto di lui per avergli affidato un incarico così importante. Gli chiede di non deluderlo e gli dice che avrà con sé i suoi uomini per portare a termine il compito. Tariq riflette sulle parole di Tufan e, orgoglioso di avere degli uomini al suo servizio per il suo primo incarico importante, se ne va soddisfatto. Nel frattempo, Zahir chiama Kemal e lo informa che Karen e suo marito sono andati via. Non ci sono più nemmeno i cavalli e l'indirizzo è ormai deserto. Questo lascia Kemal molto perplesso. Ozan sta organizzando il matrimonio con Zeynep e le chiede di inviargli i documenti necessari. Lei, intanto, sta scegliendo il vestito da indossare e opta per quello rosso che le ha regalato Emir. Zeynep non è affatto convinta di sposare Ozan, ma vuole portare avanti la sua vendetta usando il fratello di Nihan. In quel momento, Nihan entra nella stanza di suo fratello e gli dice che le manca molto e che ultimamente si sono allontanati. Ozan, preso dalle sue cose, risponde che presto riceverà una notizia, ma non le dice cosa, nonostante Nihan glielo chieda espressamente. Leila riceve la notifica della valutazione della casa in cui vive, che presto verrà messa all'asta. Nel frattempo, Vildan parla al telefono con il suo avvocato della stessa cosa, dicendo che sarà presente all'asta. Leila è molto preoccupata, ma afferma che non permetterà a sua sorella di vincere. Galip raggiunge Vildan e le chiede informazioni sulla casa che vuole mettere all'asta. Le fa notare che lei e Leila hanno gli stessi diritti e che, se Leila dovesse trovare i soldi per acquistare la casa, le spetterebbe di diritto. Vildan, contrariata, afferma che non permetterà mai a sua sorella di restare nella casa del loro padre e giura che sarà sua. Più tardi, Tariq si reca al villaggio e consegna a ogni contadino una busta di soldi in cambio del ritiro della denuncia. Il lavoro sembra facile per lui, ma a un certo punto si imbatte in un uomo che afferma di non conoscere Emir Kotskoglu. L'uomo rifiuta i soldi e dice che vuole pensare solo al bene della sua terra. Tariq si innervosisce quando l'uomo gli dice che l'ingegnere è Kemal Soider e si fida solo di lui perché è un uomo istruito. Poi aggiunge che Emir pensa solo al denaro, proprio come Tariq. A quel punto, Tariq perde le staffe e sferra un pugno all'uomo, costringendolo ad accettare i soldi e ritirare la denuncia, puntandogli la pistola contro. Terminata la sua missione, Tariq risponde alla telefonata di Emir, dicendo che tutto è andato secondo i piani. Emir afferma che ora è ufficialmente uno di loro e Tariq si compiace. Successivamente, Kemal raggiunge Zehir nel luogo dove il giorno prima Karen viveva con suo marito. Nota che non c'è più nulla e scopre che hanno venduto i cavalli alle fattorie circostanti. Si chiede come sia possibile, dato che fino al giorno prima li aveva trovati lì. Zehir gli fa notare che stanno scappando. Nihan sta dipingendo, ma non riesce a smettere di pensare alle parole di Karen. Riceve una chiamata da Kemal, che la informa che Karen e suo marito sono fuggiti, e sospetta che Emir li abbia trovati dopo di loro. A questo punto, entrambi capiscono che Karen sta nascondendo qualcosa. Poco dopo, Nihan scopre che Vildan ha messo all'asta la casa dei suoi genitori. Nihan affronta sua madre, la rimprovera e riceve uno schiaffo. Nihan allora accusa sua madre di essere calcolatrice e le dice di vergognarsi di lei. Contemporaneamente, Leila sta dipingendo quando Galip entra nel suo giardino e resta incantato a guardarla attraverso la finestra. Quando Leila lo nota, è infastidita dalla sua presenza. Galip vorrebbe parlare con lei, ma Leila rifiuta di farlo entrare, affermando che è arrogante come suo figlio. Galip insiste e le chiede se le interessa mantenere la casa. Leila risponde che non è solo la sua casa, ma anche la sua vita, e che non ha bisogno del suo aiuto e lo manda via. Mentre Nihan lascia la casa per andare a stare da sua zia Leila, Vildan piange disperata tra le braccia di Ozan. In quel momento, riceve una chiamata da Galip, appena allontanatosi dalla casa di Leila. Galip le chiede se vuole davvero prendere la casa di Leila, dicendo che lui gliela farà comprare e si occuperà di tutto. Vildan, contenta, dice che non poteva ricevere una notizia migliore. Kemal, arrivato in ufficio, trova il residente che è stato picchiato da Tariq. L'uomo gli racconta l'accaduto, dicendo che si fidavano dell'ingegnere, ma è evidente che la sua parola conti poco in azienda, rispetto a quella di Emir Kosquoglu, che sta comprando i residenti con soldi e minacce per far togliere la denuncia che blocca i lavori alla centrale termoelettrica. Nel frattempo, Emir si congratula con Tariq per il lavoro svolto, e lo premia assegnandogli un ufficio personale e biglietti da visita aziendali. Tariq è lusingato e soddisfatto. Poco dopo, Kemal entra nell'ufficio di Emir accusandolo di fare del male alle persone solo per colpire lui. Lo avverte che perderà la battaglia. Emir risponde che sta cercando di limitare le perdite causate dalla denuncia e dalla sospensione dei lavori. Aggiunge che chiederà a Tariq di essere meno duro la prossima volta, facendo capire a Kemal che suo fratello non solo lavora per lui, ma è anche colui che ha minacciato e picchiato i contadini. Kemal allora lo accusa di non avere coscienza nel dirigere la compagnia, e lo avverte che d'ora in poi non potrà più dormire tranquillo. Appena Kemal esce dallo studio, Emir chiama Tariq e gli dice di tenere d'occhio i contadini, avvisandolo che, se dovessero cambiare opinione, lo riterrà responsabile. Mentre Tariq e i suoi uomini si dirigono verso il villaggio, Kemal lo vede e gli chiede se ora il suo compito è minacciare la povera gente. Tariq risponde che sta solo facendo il suo lavoro per riparare i danni causati da lui, facendo intendere che gli fa un favore. Kemal lo mette in guardia, dicendogli che sta lavorando per un tiranno, contro la povera gente, e che se ne pentirà. Tariq, sprezzante, risponde di non avere paura. Intanto, Asu è ancora in ufficio con suo zio, quando lui si sente male, e si alza per andare in bagno a sciacquarsi la faccia. Durante la sua breve assenza, l'ospedale chiama, ma Aki ha lasciato il telefono nella tasca della giacca. Asu risponde, e scopre così che suo zio Aki è gravemente malato. Zeynep sta andando all'incontro con Ozan. Quando si accorge di essere seguita da Salih, riesce a far perdere le sue tracce salendo su un taxi. Arrivata al ristorante, viene accolta da musicisti che suonano per lei. Poco dopo, appare Ozan che si inginocchia e le mostra l'anello di fidanzamento, chiedendole se vuole essere la sua sposa. Kemal sta preparando la sua mossa contro Emir, coinvolgendo la stampa per l'indomani mattina. Arriva Asu e gli chiede cosa stia succedendo. Kemal risponde che Emir sarà vittima di una piccola operazione. Zeynep sta rientrando a casa quando riceve una chiamata da Emir, che la sta aspettando dietro l'angolo della strada. Lei è agitata e non vuole raggiungerlo, ma lui la minaccia. Zeynep si avvicina all'auto ed Emir insiste che salga perché ha cose importanti da dirle. Dopo essersi fermati, Emir le mostra le foto e le chiede se preferisce raccontare lei la storia a Kemal o se ci penserà lui, inviandogli quelle foto di loro due insieme. Zeynep, devastata dal male che rischia di fare a suo fratello, risponde che ci penserà lei, ma chiede due giorni di tempo. Emir accetta, avvertendola che se non lo farà, dopo due giorni Kemal riceverà quelle fotografie. Zeynep informa Kemal che non ci sono tracce di Karen e suo marito. Ragionandoci, deducono che i due abbiano messo in atto un piano per fuggire, vendendo tutto e cercando di nascondere la propria identità con passaporti falsi. Decidono quindi di seguire la pista per individuare la persona che può fornire passaporti falsi. Terminano qui queste nostre anticipazioni. Se volete ricevere nuovi video della serie, scrivete «Voglio il seguito» nei commenti. E se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per ricevere in anteprima le prossime pubblicazioni. Grazie!